E... azione! Certe volte... avrei voglia di... Ventura! Sì, Satana? Oh, mi scusi, signore, l'avevo scambiata per un altro. Fai meno lo spiritoso con me, Ventura. Mi devi l'affitto. Signor Decadence, gliel'ho già detto, lei è in cima alla lista. Sto lavorando a un grosso caso al momento. Glielo dimostro. Guardi qui. Questo è un vero piccione albino. L'ha perso un riccone, offre una ricompensa di 25.000 dollari. Appena trovo questo uccello, la pago. Ho sentito degli animali lì dentro, Ventura. Li ho sentiti di nuovo, stamattina grattavano dappertutto. Non porto mai il lavoro a casa, signore. Ah, sì? E che cosa sono tutte quelle scatole? Fibre. Vuole dare un'occhiata dentro? Venga! Andiamo! Coraggio, dia un'occhiata in giro. Allora? È soddisfatto? Ventura, vedi di non farti mai trovare con un animale qui dentro e basta. Va bene. Adesso la saluto. Arrivederci. Per-dente. 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 Venite a me, amici della giungla! Grazie a tutti!